Benvenuti nella nostra classe aperta, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professore Maurizio Scarpari, insigne sinologo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per presentare il suo ultimo lavoro, ritorno a Confuscio, la Cina di oggi tra tradizione e mercato, perché riteniamo che sia importante oggi parlare di Cina. La Cina è protagonista del nostro presente, professore? Sì, la Cina è assolutamente protagonista ed è uno dei protagonisti principali del nostro presente e lo sarà soprattutto del nostro futuro. Negli ultimi 35 anni la Cina ha avuto uno sviluppo economico sorprendente che ha determinato dei cambiamenti sociali notevoli e la Cina di oggi non è più la Cina di 40 anni fa o di 50 anni fa, è totalmente irriconoscibile. Oggi è la seconda potenza economica mondiale per il prodotto interno lordo aggregato e nel giro di pochi anni diventerà la prima, soccassando perfino gli Stati Uniti. e quindi è logico aspettarsi che tutti gli assetti geopolitici sono destinati nel giro di breve a essere ridefiniti. Quindi stiamo vivendo una fase di transizione molto importante che durerà ancora qualche anno e in cui vedremo, assisteremo a dei cambiamenti talmente importanti, talmente impattanti nella nostra vita anche quotidiana che è assolutamente urgente che noi mettiamo nella nostra agenda come prioritaria la conoscenza di questa nuova realtà. E in questo contesto in via di trasformazione come si pone l'Italia? L'Italia sta facendo degli sforzi ovviamente per essere al passo con anche le altre nazioni europee e non europee in questa nuova relazione da stabilirsi con la Cina. Dobbiamo considerare che per molti anni dalla fondazione della Repubblica Polaricinese nel 49, per alcuni decenni, la Cina è rimasta isolata dal mondo e il mondo è andato avanti come se la Cina non esistesse sostanzialmente, ma dagli anni Ottanta in poi invece la Cina si è posta come un interlocutore importante e quindi anche l'Italia nel tempo ha costruito una serie di relazioni politiche, diplomatiche, ma anche economiche. Ci sono stati momenti diversi, con alti e bassi. Oggi direi la Cina non è sicuramente, non vede l'Italia come uno degli interlocutori privilegiati, tende di più a vedere l'Europa come un interlocutore importante, anche se l'Europa in questo momento soffre di una mancanza di unità politica ed economica che è evidente e quindi poi c'è la tendenza di privilegiare il dialogo con alcune nazioni come per esempio la Germania o la Francia. L'Italia non è nelle primissime posizioni, però ha un interscambio commerciale abbastanza rilevante e anche le relazioni culturali di un certo peso. Uno dei temi su cui insiste nel suo ultimo libro riguarda la politica di soft power portata avanti dalla Cina. In cosa consiste esattamente? Può spiegarcelo? Il concetto di soft power che è stato introdotto anni fa soprattutto da Joseph Nye, che l'ha coniato come termine, ma soprattutto dalla politica estera americana, è uno dei fattori determinanti per una nazione che voglia stabilire la sua leadership a livello mondiale. In realtà per soft power si intende quel potere morbido con cui si riesce a conquistare una posizione di dominio senza usare la forza delle armi o la forza economica, ma la persuasione dell'idea e della propria cultura. Noi oggi sentiamo molto per esempio il peso del soft power americano che passa attraverso la letteratura, i film, modelli di vita che in qualche modo affascinano l'Occidente anche in modo critico. La Cina sa benissimo di non avere nessun soft power valido verso l'Occidente, cioè la Cina non viene vista in Occidente come una nazione da emulare, per cui sa che deve lavorare molto su questo fronte, anzi in Occidente spesso la Cina è temuta, nel corso degli anni era tenuta prima come una nazione che avrebbe invaso con i suoi prodotti, i mercati facendo fallire le aziende occidentali, poi viene vista come un'invasione culturale, per cui modelli di pensiero politici inadeguati al mondo occidentale, insomma di volta in volta è difficile al momento attuale vedere la Cina come un, proporsi come un modello da seguire, chi vorrebbe oggi sostanzialmente vivere in Cina, ecco non è paragonabile al soft power americano, il soft power cinese ha una sua caratteristica che è quella quindi di cercare di veicolare i punti forti della sua cultura come valori universali. Quali sono i punti forti della sua cultura? Qui abbiamo un problema, perché dipende dalla prospettiva da cui la cultura si vede, non necessariamente quello che i cinesi considerano i punti forti della loro cultura lo sono per noi occidentali e quindi uno dei problemi del soft power cinese è proprio questo, cioè la capacità di intercettare l'interesse dell'Occidente. Consideri che la cultura cinese appartiene a una civiltà millenaria, potentissima, altissima, di un livello di sofisticatezza elevatissimo e in Asia orientale la cultura cinese sta come la cultura europea sta in Occidente, per cui insomma è potentissimo, il pensiero cinese, il pensiero filosofico, l'estetica sono elementi forti di quella cultura. Nell'Asio orientale la Cina è stato un faro di civiltà per tantissime nazioni, sia dell'area circostante la Cina, sia del sud-est asiatico, sia della Corea, al Giappone, a tutti i paesi del sud-est asiatico che hanno subito, in qualche modo sono rimasti affascinati dalla cultura cinese. In quel caso il soft power ha funzionato benissimo, devo dire. Il problema adesso è importare questi valori, questi modelli all'Occidente, non è sempre facile. Riguardo al suo libro, Ritorno a Confucio, cosa dice Confucio alla Cina di oggi? Confucio è uno dei massimi, forse il massimo filosofo della Cina antica, vissuto tra il VI e V secolo a.C. e ha avuto un ruolo determinante perché dall'inizio dell'impero, dal primissimo inizio ma poco dopo, dal I secolo a.C. sicuramente, il confucianesimo ha avuto un ruolo fondamentale in quanto è diventata ideologia di Stato. E quindi lo Stato e la società si sono modellati su dei principi che erano stati i punti forti, i punti cardine del pensiero da lui proposto e dai suoi poi discepoli sviluppato. Quindi il confucianesimo in qualche modo ha percorso tutta la storia dell'impero. Teniamo conto che l'impero cinese è un impero che è durato per oltre duemila anni, non c'è un paragone con nessun altro impero del mondo, per cui tra alti e bassi, con momenti di divisione eccetera, per oltre duemila anni. Nel Novecento il confucianesimo è stato messo al bando, è stato indicato come una delle cause della retratezza della Cina e quindi è stato visto come un rettaggio feudale da eliminare, da combattere, questo soprattutto poi nel periodo anche comunista fino alla rivoluzione culturale. Successivamente c'è stata una ripresa molto graduale, un po' lenta perché man mano che la realtà cinese veniva modificata e si creavano queste condizioni di benessere materialista, se posso dire così, arricchirsi è bello era lo slogan del momento ed è giusto, soprattutto arricchirsi è giusto, per cui c'è stata questa corsa sfrenata al materialismo, alla ricerca economica, insomma di successo economico, in qualche modo si sono persi pezzi importanti della propria cultura, della propria spiritualità e si sono creati dei vuoti spirituali, dei vuoti esistenziali che sono via via andato aumentando. L'ideologia che aveva in qualche modo sorretto l'azione del Partito Comunista che ha sempre svolto e ancora svolge un ruolo dominante nella gestione del governo cinese, è andata sempre più perdendo la presa che aveva man mano che si allontanava dal periodo della rivoluzione che aveva portato poi alla costruzione del proprio popolare cinese, per cui ci si è trovati davanti alla necessità di creare un nuovo supporto ideologico che potrebbe in qualche modo garantire da una parte la sopravvivenza del Partito Comunista come partito leader della nazione e dall'altra creare questi vuoti che si erano venuti a creare e traghettare la popolazione cinese in questa difficile fase di transizione. Quale miglior decisione che rifarsi sia al proprio retaggio culturale, al proprio patrimonio culturale, quindi gradualmente ci si è rivolti ancora una volta il confucianesimo, un fenomeno che è successo più volte nella lunga storia cinese, ed ecco che alcuni valori fondamentali come il valore della benevolenza, della solidarietà, del rispetto filiale verso i genitori, verso i superiori e anche verso i propri governanti, quindi c'è anche un aspetto politico non secondario in questa ripresa, perché il confucianesimo tutto sommato ha garantito una coesione sociale all'interno della famiglia, all'interno della società, ma anche tra la popolazione e il governo. Il rispetto che io devo verso i miei genitori, in particolare verso mio padre, il rispetto che io devo verso il sovrano un tempo e probabilmente il presidente o il segretario del partito oggi, per cui questa ripresa importante cambierà sicuramente nel giro degli anni la vita dei cinesi, si è ritornati a un'educazione fin dalle scuole elementari, in parte sostenuta dai classici, dalla cultura tradizionale e quindi nel corso, man mano che questi bambini diventeranno adolescenti e poi adulti, si creano delle condizioni per cui avranno dentro di loro istillati nuovamente certi principi e certi ideali che hanno fatto forte la cultura cinese. Penso a un vuoto spirituale, a una mancanza di valori che abbiamo in parte in comune con la Cina, Confucio può dire qualcosa anche a noi? Certo, ci sono alcuni aspetti del confucianesimo che noi ritroviamo anche nella nostra cultura, il concetto di armonia, di buon governo, se posso mettere anche questa cosa che mi sembra una parola un po' strana oggi, un po' desueta forse, la lotta contro la corruzione per esempio, quindi un'etica di governo, un'etica anche individuale che ponga l'altro nella sfera di interazione e di attenzione del singolo, dell'individuo, la ricerca non tanto del profitto ma di un rapporto solidale, costruttivo col mondo circostante, l'impegno sociale rispetto all'impegno individuale, tutti questi sono valori, potremmo dire trasversali in qualche modo, per cui sì, io penso che il confucianesimo potrebbe essere utile anche a noi, più semplicemente penso che se noi trovassimo, andassimo a ricercare queste cose nella nostra cultura, le ritroveremmo e quindi potremmo fare la stessa operazione che stanno facendo i cinesi, cioè se noi tornassimo ai nostri classici e andassimo ad esplorare, come dire, a riprendere certi principi che erano già stati codificati per noi in passato, probabilmente faremo un'operazione analoga a quello che stanno facendo i cinesi ci farebbe solo che bene. Quindi la cultura ha un valore importante nella vita sociale? Ha una ricaduta nella vita sociale? Io penso che la cultura sia essenziale, senza cultura non si va da nessuna parte e quindi questo vale per la Cina, vale per l'Occidente, vale per tutto il mondo, la cultura è sostanzialmente ciò che fa la differenza, l'economia senza cultura non porta da nessuna parte e quindi anche l'individuo può essere l'uomo più ricco del mondo ma se non ha una cultura in educazione questa ricchezza si disperderà e non porterà a nulla, per cui io penso che la cultura sia essenziale e che una volta che si siano risolti problemi economici di base che quindi mettono in condizione le persone di avere il tempo e la possibilità di dedicarsi e lo studio e la coltivazione di se stessi, momenti di riflessione anche nel proprio modo di comportarsi e di agire nel mondo, io penso che ci sarà un beneficio non solo individuale ma generale per tutta la popolazione, per la nazione che mette in cantiere operazioni di questo tipo. Grazie professore, una curiosità, leggendo il suo libro, molto interessante, mi ha anche incuriosito la copertina, può spiegarmela? Questa copertina forse vale la pena farla vedere bene perché è una copertina particolare, è tratta da un manifesto, quelli che noi chiameremo un manifesto progresso, quindi ne ritroviamo tantissimi di questo tipo. Questa è stata utilizzata durante una campagna per la riproposizione dei valori fondanti della peta filiale, quella che noi chiamiamo peta filiale, del rispetto verso i propri genitori. Qui vediamo una scena abbastanza semplice, c'è un bambino che asciuga il proprio padre che si sta dedicando al proprio genitore, quindi qui abbiamo tre generazioni, è evidente il messaggio, la generazione di mezzo si prende cura della generazione più anziana ed è così di esempio, il confucianesimo porta all'esempio il modello positivo come l'elemento essenziale dell'educazione, istintivamente ripete lo stesso gesto e quindi questa è la scena che prima colpisce di questa copertina. Però nel primo piano che abbiamo, nel piano basso di questa copertina, vediamo che ci sono una chioccia, un gallo e ci sono dei pulcini. La scena sembra chiudersi in un cerchio. Infatti, ha perfettamente ragione, infatti i pulcini in questo caso sembrano essere per conto loro, non fanno nulla di particolare, è la chioccia che li guarda e sta attenta che facciano le cose che non fare, che non corrono dei rischi, quindi in questo senso, in questo caso il senso è completamente opposto, non è più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Il gallo guarda tutta la scena ed ha questo senso di unità che lei ha conto perfettamente, cioè il gallo che chiude tutto questo. Poi ci sono tutta una serie di elementi di richiamo come i pulcini che sono identici al, se vedete, nelle scarpe del bambino ci sono dei pompon, dei patufoli che sono esattamente quelli, il bargiglio del gallo e della gallina sono ripresi in alcuni elementi che forse su cui non si vedono bene, ma che sono presenti in qualcosa che l'anziano sta tenendo in mano. Il giallo che vedete della sedia e del dentaglio è il tipico giallo imperiale, il sole dietro la testa di questo anziano che è tutt'altro che un anziano denutrito, sembra molto palestrato, quasi, e assomiglia un po' agli Eni intanto per dirne una. Quel sole rappresenta nella simbologia cinese Mao Tse Tung e quindi qui abbiamo un chiaro richiamo a un'epopea che non può più essere, che non può essere abbandonata, quindi non c'è un, nessun, non si rinnega, il maoismo resta uno degli elementi fondanti dell'ideologia cinese. Il cartiglio che vedete in fondo, che è il quadrato rosso, c'è una scritta in cinese, Zhongguoman, che vuol dire è il sogno cinese, che è lo slogan di Xin Jinping. Con Xin Jinping è iniziata l'era del sogno cinese, la Cina è uscita dal suo momento di chiusura e anche dal secolo dell'umiliazione, come lo dicono i cinesi, in cui ha dovuto contrastare le potenze occidentali e oggi si presenta a pieno titolo e a testa alta e con molta dignità sullo scacchiere mondiale. Quindi ci sono tutti gli elementi per passare, come spiegavo prima, dalla famiglia allo Stato, dalla struttura sociale alla struttura politica e quindi secondo me in questa immagine abbiamo la sintesi di quello che sta accadendo in Cina e che è poi il cuore del libro che avete presentato oggi. Grazie professore, io credo che nella conoscenza degli altri ci sia l'occasione di conoscere meglio se stessi. Alla prossima. Grazie mille.